amici amici bianconeri bentrovati nuovamente sul mio canale secondo video di giornata dopo il tre grandi risposte il video che appunto dà spazio alle vostre curiosità tal proposito vi invito a continuare a farlo invece di scrivere messaggi che richiedono poi off topic che poi richiedono risposte lunghe per le quali faccio fatica a star dietro sfruttate la mail grammo bianconero chioccio la gmail.com che trovate qui sotto in descrizione per partecipare altre risposte come sempre vi dico ogni tre domande realizzo video di risposte il video di quest'oggi dedicato alla fase dei rinnovi e discuteremo a brevissimo insieme lasciatemi però spazio due secondi per un chiarimento perché il video di ieri ha destato qualche polemica relativo alla considerazione che ho fatto su come ha vinto il Real Madrid guarda caso coloro i quali mi considerano uno stremo difensore di Massimiliano Allegri nonché esser loro dei diciamo fervidi contrappositori dell'annatore Massimiliano Allegri sono coloro i quali hanno sollevato la polemica continuano a non capire il significato di quel video non era un video a difesa dell'annatore l'ho anche peraltro sottolineato nel video che non voleva essere quello tant'è che io nella fase finale della stagione più volte ho preso le distanze da alcune scelte di Massimiliano Allegri ma chi vuol capire capisce chi vuol continuare a non capire guarda casa sono sempre quelli che ripeto hanno in contrapposizione l'annatore Massimiliano Allegri non accettano che si facciano considerazioni diciamo che vadano un po' contro quello che è il loro credo ma non è un problema mio è un problema loro quello che ci tengo però a sottolineare è che la mia non voleva essere assolutamente una difesa di Massimiliano Allegri il modo in cui ha vinto il Real Madrid ma semplicemente fare una constatazione di come il Real Madrid ha vinto la Champions League passiamo però alla situazione rinnovi che è quella che ci preme di più è quella che vi preme di più perché sia sotto i video sia nei messaggi privati mi giungono richieste di informazioni su quello che sarà il futuro di Fagioli su quello che sarà il futuro di De Sciglio è uscita la notizia rilanciata se non vado errando da Marcello Chirico il quale ha riferito che secondo le sue informazioni Mattia De Sciglio non rinnoverà con la Juventus su quella che è la posizione di Matthijs De Ligt allora procediamo con ordine cominciamo con Niccolò Fagioli allora per quanto riguarda Niccolò Fagioli la situazione è abbastanza chiara lui ha il contratto di scadenza nel giugno 2023 c'è chi ha paventato c'è chi ha sottolineato quello che è il contenuto della sua intervista rilasciata Sport Week come un contenuto di un ragazzo un po' spocchioso come il contenuto di un ragazzo che ancora non ha capito bene che per potersi guadagnare un posto nella Juventus c'è tanta strada da fare ora è indubbio che per potersi guadagnare un posto alla Juventus ci sia tanta strada da fare ma questo vale per Niccolò Fagioli come per chiunque altro sul fronte Niccolò Fagioli va detto che il ragazzo ha disputato certamente una prima parte di stagione eccellente tanto che è stato eletto miglior centrocampista del campionato che ha detto una seconda parte di stagione un po' più difficile l'ho detto più volte lo ribadisco anche in questo video le parole di Gagliani chiedo scusa le parole di Ari Dobraida devono far riflettere nella sostanza ha detto che per guadagnarsi un posto nella Juventus chiunque deve fare tanta strada chiunque deve applicarsi giorno per giorno per migliorarsi con umiltà con sacrificio con dedizione evidentemente è qualcosa che ancora a livello di discontinuità nella forza mentale di Niccolò Fagioli c'è non non è ancora un giocatore probabilmente pronto per questo step diciamo definitivo per un posto fisso tra i grandi chiamiamolo così perlomeno questo è il pensiero di Ari Adobraida lui evidentemente è di altro avviso perché nell'intervista sostiene che i giovani debbano giocare quelli forti chiaramente debbano giocare che lui si sente pronto per prendersi la Juve ma che giustamente vuol capire che cosa vuol farne la Juve di lui e beh credo che sostanzialmente sia una intervista al di là del fatto che molto spesso i virgolettati o comunque i riporti non sono esattamente corrispondenti o vanno contestualizzati ma detto questo io credo che comunque il significato delle sue parole sia un significato di parole di un ragazzo che sa il fatto suo che giustamente vuol vederci chiaro è nella sua legittima aspirazione farlo e che comunque non credo voglia significare che abbia giocoforza per queste dichiarazioni si sia montato la testa o abbia fatto il passo più lungo della gamba la Juventus comunque dovrà discutere con lui il rinnovo dubito che la Juventus voglia perdere il ragazzo a parametro zero o voglia sacrificarlo mi risulta che la Juventus creda in Niccolò Fagioli ma come vi ho sempre raccontato anche precedentemente Niccolò Fagioli deve fare degli ulteriori step di crescita motivo per il quale è stato mandato a giocare a Cremona motivo per il quale la Juventus avrebbe in programma per lui un ulteriore anno di titolarità in una squadra magari piccola o media della serie A proprio per confrontarsi nel carriolato che conta però non è detto che poi alla fine invece Niccolò Fagioli possa essere inserito insieme credo a Fabio Miretti su di lui ci sono magari un pochino più di certezze affinché resti nella rosa di la prossima stagione non è detto che Niccolò Fagioli possa poi alla fine essere un componente della rosa bianconera vediamo intanto dovrebbe esserci un incontro per parlare del rinnovo perché ripeto lui ha il contratto di scadenza giugno 2023 e quindi è fondamentale che si faccia questo incontro e che si trovi un accordo per il provamento del contratto la sensazione ripeto è che la Juve e Niccolò Fagioli proseguiranno ancora insieme e stenderanno il contratto veniamo invece al discorso di Mattia De Sciglio Marcello Chirico trammi attraverso Twitter ha rilasciato un tweet dove ha dichiarato che secondo le sue informazioni Mattia De Sciglio non sarà un giocatore della Juventus non rinnoverà il contratto con la Juventus ora io personalmente non ho nessun tipo di indicazione che vadano contrarie a quanto detto in passato ovvero che Mattia De Sciglio sono sostanzialmente d'accordo su tutto anzi che Mattia De Sciglio abbia scelto di sposare la causa bianconera la quale ha sempre dato la priorità anche rinunciando a qualcosa perché dall'estero offerte più allettanti da un punto di vista remunerativo arrivarono ma lui la priorità l'ha data la Juventus ed ha accettato ed è disposto a guadagnare meno pur di rimanere bianconero io non sono a conoscenza di uno slittamento dovuto a un ripensamento da parte della Juventus non è detto che così non sia perché effettivamente che cosa sarebbe costato alla Juventus annunciare dopo quelli di Perin del rinnovo automatico di quadrado anche il rinnovo di Mattia De Sciglio probabilmente può essere che la Juventus stia prendendo tempo per capire se c'è un'operazione sulla corsia di destra che possa essere anticipata o possa essere conclusa e a quel punto evitare di portare a termine il rinnovo di Mattia De Sciglio però questa è una considerazione che si fa alla luce del ritardo del rinnovo non perché io abbia informazioni sul fatto che Mattia De Sciglio non rinnoverà certo è che il tweet di Marcello Chirico va preso diciamo in considerazione una riflessione va fatta non è detto che così come si raccontava diciamo certi del possibile proseguo del rapporto tra De Sciglio e la Juventus sia attualmente nella stessa identica condizione di qualche settimana fa può essere che la Juventus stia riflettendo seriamente se proseguire o meno. Veniamo all'ultimo rinnovo di contratto che è quello di Matthias De Ligt negli incontri con l'avvocatessa Pimenta che ora ha assunto sostanzialmente le redini della scuderia Raiola e quindi tratta in prima persona determinate situazioni c'è la volontà da parte della Juventus di assecondare le richieste dell'avvocatessa quindi della scuderia Raiola e del loro assistito di abbassare la clausola rescissoria da 125 milioni a una cifra più vicina ai 70-80 milioni e c'è però la volontà della Juventus di prolungare il contratto di due anni cioè scadenza di giugno 2024 o portarla alla scadenza del 2026. La Juventus spinge per questo perché rinnovare il contratto di un solo anno significherebbe ritardare semplicemente di un anno un'eventuale ricontrattazione e allora si lavora sul 2025 più uno con opzione per un ulteriore anno oppure sul 2026 cosa più gradita alla Juventus. Si tratta di limare la situazione garantendo lo stesso stipendio al giocatore abbassando la clausola ma prorogandolo di ulteriori due stagioni perché nella volontà della Juventus c'è quella di far sì che Matthijs De Ligt sia un perno della squadra del futuro di quella squadra che a partita della prossima giornata dovrà tornare a dominare in Italia ma che nel corso dei prossimi anni vorrebbe ritentare la scalata anche al tetto di Europa. Ovviamente servono giocatori di livello Matthijs De Ligt è uno di questi e quindi la sensazione è che questo rinnovo si farà e si farà per due stagioni quindi con scadenza nuova al giugno 2026 abbassamento della clausola chiaramente inclusa. Ragazzi io vi saluto vi auguro un buon proseguimento di Serat come sempre fino alla fine Forza Juve. Ciao! Iscrivetevi al mio canale YouTube mi raccomando mettete like al video. Ciao!